Roberto Berio presidente di Sanremo On è una sinergia che continua quella con De Molle per promuovere la città di Sanremo e anzi più che continua oggi abbiamo fatto una conferenza stampa con loro perché siamo arrivati a un punto maggiore di concretezza di collaborazione fra la struttura di De Molle la città di Sanremo la città di Sanremo la struttura di De Molle e il primo momento concreto per dare via questa nuova stagione di collaborazione è l'organizzazione di questo evento abbiamo organizzato noi come Sanremo on Pasqua in fiore a Sanremo dal 14 al 17 con quattro giorni di eventi che coinvolgono tutta la città che coinvolgeranno anche De Molle che farà un'installazione di fiori all'interno De Molle e dove ci saranno cartelli promozionali che rimanderanno a quello che chiediamo sempre noi i turisti che visitano De Molle nel centro di Sanremo così come può accadere il contrario questa è la sinergia che noi vogliamo diventi concreta fra la città e De Molle e oggi c'è un sostegno diretto a fare questa iniziativa che è per noi molto importante dal segno della ripartenza dopo il covid e speriamo dopo la guerra è un momento difficile per il commercio dal punto dopo due anni di pandemia adesso la crisi la guerra in Ucraina e si riparte comunque da Sanremo con i fiori esatto noi abbiamo voluto fare proprio questa ripartenza con i fiori coinvolgendo con una grande infiorata in piazza Boradolmo coinvolgendo tutta la città vecchia coinvolgendo molti attori perché all'Arison ci sarà Pintus uno spettacolo al Casino ci sarà il Gala dei Fiori con Ruggeri facciamo un'installazione anche a Santa Tecla ci sarà il mall con i fiori sostanzialmente invadiamo tutta la città di Sanremo per quattro giorni di fiori e di eventi importantissimi l'orchestra sinfonica che farà l'apertura con un incasso devoluto anche i profughi dell'Ucraina quindi coinvolgiamo abbiamo coinvolto tantissimi attori addirittura le ragazze del desco di ospedaletti che verranno in fiorare la pigna per fare una manifestazione che coinvolga tutti il dia segno della ripartenza nel segno dei fiori e della gioia